Berry Plant è felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Non devi più cercare, non si può andare oltre questa bellissima casa. Questa proprietà vanta una stupenda cucina dove sarà un piacere preparare i pasti. Gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti. Il meglio della vita è dell'intrattenimento all'aperto, un ottimo modo per finire la giornata. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.